Lo Sportello Sprint è una risorsa importantissima per l'amministrazione regionale perché lavora sui servizi di accompagnamento e sull'accorciamento delle distanze tra imprese e istituzioni. È un'attività che l'assessore Tamaio ha voluto fortemente rilanciare perché crediamo che solo accorciando le distanze tra imprese e istituzioni e favorendo la connessione con gli strumenti nazionali dell'internazionalizzazione e quale l'accordo di oggi con la Simest sicuramente serviranno a far crescere le imprese siciliane sui mercati esteri. Che influenza avrà l'accordo sullo sportello che lei dirige? L'influenza è la creazione di un tavolo tecnico permanente che siamo certi favorirà l'export sui mercati delle imprese siciliane e siamo certi che snellirà delle procedure amministrative e burocratiche che spesso in questo Paese penalizzano le imprese. L'importanza di questo accordo per la Sicilia? Il protocollo di intesa che noi oggi sottoscriveremo insieme a Simest sarà l'obiettivo di promuovere diverse attività e dare la possibilità alle imprese siciliane di andare sui mercati esteri, sui mercati internazionali. Noi crediamo molto all'internazionalizzazione, crediamo molto nel percorso che può arrivare attraverso l'internazionalizzazione vuol dire creare relazioni commerciali importanti, vuol dire esportare la nostra cultura e le nostre tradizioni. Noi lavoriamo proprio per rafforzare il sistema di competitività delle nostre aziende. L'abbiamo fatto mettendo in moto una serie di bandi e cercando di utilizzare le risorse che arrivano dall'Unione Europea sia attraverso il FES2127 sia utilizzando anche il Fondo Sviluppo e Coesione. Abbiamo quasi un miliardo e duecento milioni di euro da spendere per, ripeto, rafforzare il sistema di competitività delle nostre aziende. L'importanza di questo accordo per le imprese siciliane? Allora, noi riteniamo che sia veramente di importanza elevatissima. Perché? Perché il nostro principio è non solo mettere a disposizione fondi, ma andare poi negli singoli territori, e per noi la Sicilia e tutto il sud sono assolutamente prioritari, a trovare quei canali che insieme alle istituzioni locali, e chi più della regione, essere l'attore istituzionale per eccellenza, andare ad unire le forze in una logica di cooperazione sistemica, unendo i nostri fondi ad altri che ci sono nella regione, ad altri attori come SACE e ICE, per semplificare quello che possono essere le scelte di investimenti competitivi per essere più presenti sui mercati globali, sia esportando, sia creando realtà all'estero, dando anche strumenti più innovativi che permettono alle imprese di investire in quello che ormai è fondamentale nella competitività.